Al giorno d'oggi capite di vedere uomini super muscolosi che amano andare in palestra e mantenersi in forma, però è un po' insolito vedere delle donne che sembrano delle statue greche, oggi ve ne mostrerò un paio e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate al riguardo, io sinceramente sono sbalordito. Ho abusato degli steroidi e ora sono diventata un uomo, Candice Armstrong 28 anni è una bodybuilder a cui l'uso di steroidi ha causato la crescita della barba e anche di un mini pene al posto del clitoride, dandole le sembianze di un uomo, la ragazza però non è pentita nonostante le conseguenze che sta pagando, a vederla nelle foto Candice sembra un uomo, muscoli possenti, barba e acne diffusa, questo è l'effetto dell'abuso di steroidi ragazzi, ma la ragazza inglese non ha la minima intenzione di smettere con l'uso di tali sostanze, anche se rischia gravi conseguenze per la sua salute. Tra tutte quelle che vedremo nella top di oggi, lei è la più normale diciamo, maliziosa, accattivante e incredibilmente muscolosa. È la bellezza definita di Jodie, personaggio amatissimo negli Stati Uniti, per la sua simpatia travolgente, messa in mostra anche sul suo canale YouTube e nelle sue apparizioni televisive come su D-Max. La ragazza è anche nota per il suo enorme seno, ovviamente rifatto. Comunque, lei ha seguito un duro allenamento per diventare una bodybuilder e al giorno d'oggi ha schettenato un putiferio su Instagram, con le sue foto super sexy. Guardando le sue foto, qualcuno incuriosito potrebbe chiedersi, ma come fa una donna ad avere un corpo così massiccio? Quante ore al giorno si allena? Beh ragazzi, vi dico che si allena circa 5 ore al giorno, però prende anche un bel po' di steroidi. Sinceramente non voglio nemmeno immaginarmi come sarebbe una giornata in palestra con lei. Comunque, è alta circa 1,60 m e pesa 63 kg e scommetto che potrebbe intimorire un bel po' di uomini. Lei stessa si fa chiamare la 18enne bodybuilder russa con il viso di bambola, e non potrebbe esserci una definizione più azzeccata. Da poco, maggiorenne pratica il powerlifting, una disciplina che prevede diverse forme di sollevamento pesi, e si allena ininterrottamente dal 2011, ovvero da quando aveva appena 15 anni. Questo le ha permesso di ottenere un fisico imponente, con dei muscoli che farebbero invidia a qualsiasi culturista, ma la sua scelta di intraprendere uno sport maschile non le ha impedito di preservare un concentrato di femminilità. Infatti la ragazza, nonostante i suoi muscoli, è molto corteggiata. Come si può intuire delle foto in questione, la donna è una bodybuilder professionista che viene dalla Slovenia. Pensate che già all'età di 14 anni, decise che da grande sarebbe diventata una concorrente nel mondo del fitness. Ma come le venne questa ispirazione estrema? In pratica un giorno mentre era a casa del suo ragazzo, vide delle foto sul muro di alcuni bodybuilder, e da quel giorno la ragazza non ha più smesso di andare in palestra. Comunque la donna nel 2013 si è ufficialmente ritirata da questo mondo, e dico meno male, altrimenti chissà come sarebbe diventata adesso. Comunque la donna nel 2013 si è ufficialmente ritirata da questo mondo, e da quel giorno la ragazza non ha più smesso di andare in palestra. Comunque la donna nel 2013 si è ufficialmente ritirata da questo mondo, e da quel giorno la ragazza non ha più smesso di andare in palestra.